365 giorni dopo si rivive un dramma, sempre due vittime, sempre lo stesso tratto definito ora maledetto, sempre un tir coinvolto. Stavano posizionando la segnaletica di cantiere, era notte, le 23 di ieri. Due operai della provincia di Frosinone sono morti travolti da un tir tra il bivio con il raccordo di Casalecchio e Bologna-Borgo Panigale. 6 agosto 2018, quell'esplosione. Due morti, 140 feriti fra abitanti del quartiere, passanti per la strada limitrofe al cavalcavia autostradale, negozi e case danneggiate, grande paura. Autostrada chiusa per un paio di giorni, per poi essere riaperta completamente alla viabilità dopo più di un mese. A un centinaio di metri da quello schianto, neanche una settimana fa, Borgo Panigale ha rivissuto un altro incubo. Tre mezzi pesanti si sono scontrati, provocando la morte di un camionista. Poi l'ennesimo incidente della scorsa notte, che ora riapre il dibattito sui pericoli che corrono i lavoratori impegnati nei cantieri stradali ed autostradali.